Nonostante le rassicurazioni arrivate qualche giorno fa dall'Asle 10, è ancora bufera sull'ospedale Serrestori. Il sindacato di base i Cobas promette battaglie e agitazione permanente su quelli che, a giudizio del sindacato, sono vere e proprie attacchi al presidio del Valdarno Fiorentino. Rifondazione Comunista in provincia di Firenze sostiene dal canto suo lo stato di agitazione indetto dai Cobas. Al rischio di essere stori, dichiara PRC, si trovano le attività di pronto soccorso, le medicine, la chirurgia, l'ortopedia, la e l'attività di sala operatoria. Mentre poco si sa dell'oncologia, che in questi anni è diventata un qualificato punto di riferimento sui bisogni sanitari della popolazione. Il sindacato di base non ci sta a vedere manificare tutti gli investimenti fatti in questi anni e soprattutto a vedere cancellato il grande lavoro svolto, spesso in condizioni di lavoro precario e di gravi carenze organiche. Anche la Lega Nord, per bocca del suo consegnare in provincia Marco Cordone, chiede quali iniziative intende a prendere Palazzo Medici Riccardi nei confronti della regione e della ASL, a difesa dello storico ospedale, da sempre presidio fondamentale per il Valdarno. Insomma, la questione bolle parecchio. Intanto, fra qualche settimana, l'assessore regionale alla sanità Marroni dovrebbe presentare la blacklist dei piccoli ospedali da chiudere e nuovi tagli al sistema sanitario e ai servizi.